Siamo qui per chiedere all'associazione e alla nostra famiglia di non cambiare il contratto applicato ai lavoratori, di ritornare all'applicazione del contratto sanità privata, che è l'unico contratto che ad oggi riconosce e valorizza le professioni presenti all'interno delle strutture dell'associazione. Applicando il contratto Aris RSA i lavoratori sarebbero penalizzati in prima battuta sotto il profilo economico, vedrebbero aumentato il monte ore lavorato, passando da 36 a 38 a parità di stipendio. In più non beneficerebbero del rinnovo contrattuale di sanità privata vedendosi così penalizzati una seconda volta.